Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video delle sfide della settimana 8 Ragazzi siamo qui con la nuova sfida di esaminare forcieri a sabbie sudate Ovviamente dobbiamo dirigerci a sabbie sudate Prima che inizi il video vi chiedo un bel like ragazzi Iscrivetevi al canale, arriviamo a questi 6300 iscritti Comunque ragazzi siamo tornati con queste sfide Adesso vi farò vedere subito come esaminare questi bauli Cosa significa esaminare Quindi ragazzi dirigiamoci a sabbie sudate e andiamo a fare subito questa sfida Ed eccoci qui siamo diretti verso sabbie sudate Proprio ragazzi quindi in alto a sinistra della mappa Quindi a nord ovest sempre dove abbiamo fatto anche l'altra sfida del vortice Andatela a vedere E quello che dobbiamo fare è cercare bauli Quindi noi una volta che siamo a sabbie sudate Dobbiamo andare, atterriamo prima su questo tetto ragazzi Poi spacchiamo Una volta che abbiamo spaccato dobbiamo scendere le scale Quindi andando qui giù e girando a destra ci sarà il primo bauli a sabbie sudate Dobbiamo aprirlo ragazzi Quindi esaminare significa aprire Il secondo si trova proprio in questo punto sotto la S di sudate E poi abbiamo anche un terzo che si trova sotto le due B ragazzi di sabbie E poi abbiamo anche altri bauli come questo che si trova sulla spiaggetta Quindi sopra in questo caso le due B di sabbie E poi l'altro ragazzi proprio sopra sabbie sudate Quindi a nord di sabbie sudate sul ponticello Ve lo conterà lo stesso perché è la stessa zona E poi ce ne abbiamo un altro qui sotto Ed ecco qui ragazzi ne abbiamo raccolti sei Ovviamente ci saranno altri bauli come quelli che si trovano nella casa grande di sabbie Lì vedete a sinistra E niente ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto Lasciate tutti un bel like se è così Iscrivetevi al canale E noi ci vediamo in un prossimo video Ciao ragazzi Ciao ragazzi